Il centro di neuromodulazione è, credo, primo in Europa, perché è un centro dedicato a questa procedura terapeutica che consiste nell'impianto chirurgico di un cosiddetto pacemaker vescicale. Così come esiste il pacemaker cardiaco, esiste anche il pacemaker vescicale. Le indicazioni a questo tipo di terapia sono le forme più gravi di incontinenza urinaria, la ritenzione urinaria, il dolore pelvico, ahimè, nelle sue diverse espressioni cliniche, e alcune disfunzioni neurologiche urinarie. Poi successivamente le indicazioni si sono allargate anche al di là dell'area prettamente urologica, coinvolgendo anche la coloproctologia, cioè alcune forme di incontinenza fecale e di stipsi. A questo centro, che credo primo in Italia, ma credo di poter dire primo in Europa, non perché la neuromodulazione la facciamo solo noi, ma perché è il primo centro dedicato unicamente a questo tipo di terapia, tant'è che adesso sono dedicati a tempo pieno due medici, due neurovalentissimi neurologi, e cinque infermiere, con un'esperienza veramente invidiabile, dedicati a tempo pieno a questo centro. Che quindi è un centro multispecialistico, perché coinvolge anche i coloproctologi, e multiprofessionali, perché c'è questa interazione tra medici e infermieri che è fondamentale. Oltre ad essere un centro operativo, che quindi si rivolge come centro di terzo livello della rete, e quindi che si dovrebbe occupare dei casi più complessi di disfunzioni urinarie, è anche un centro che dovrebbe occupare della formazione, della didattica, dei medici, degli infermieri, degli altri futuri centri che nasceranno in Italia e in Europa.